Alberto Ribezzo, titolare dell'antica dispensa di Monforte d'Alba, è il nuovo presidente del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Cuneo. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea annuale al castello di Govone, dove ha illustrato i suoi progetti. Abbiamo tra tutti quello di far sentire gli imprenditori giovani della nostra provincia, più europei di quanto sono stati finora, progetti legati alla formazione dei giovani imprenditori, progetti legati al passaggio generazionale e alla convivenza di più generazioni all'interno dell'azienda, quindi aiutare gli imprenditori a convivere bene quei 10-15 anni che normalmente si passano con i propri genitori all'interno dell'azienda, un'attenzione particolare al mondo delle start-up. Titolo dell'assemblea, Europa, noi ci siamo. Qui anche per ribadire il nostro impegno nel progetto europeo, noi ci crediamo, noi ci siamo, l'Europa e il mercato comune europeo non è un'opzione negoziabile per noi giovani imprenditori, ci siamo e lo vogliamo dire alla politica. Il sogno europeo che hanno scritto qualche anno fa dei nostri amici, perché erano coetanei, in un momento di crisi, forse peggiore di questo, sull'isola di Ventotene, vive in questo momento un altro momento di crisi e come tutti i momenti di crisi hanno al loro interno un'opportunità e questa è l'opportunità per rilanciare quel sogno. Sentirci prima di tutto cittadini europei nati in Italia, lo vogliamo fare come persone e come imprenditori. Il Bezzo raccoglie il testimone della saluzzese Enrico Galleano. Penso di lasciare un gruppo giovane, soprattutto di under 30, di nuovi giovani che ci credono in questo gruppo, ci credono in queste attività e ci credono soprattutto nell'associazionismo. Lupo sicuramente ad Alberto, conosco già da anni Alberto e sicuramente entrerà a far parte della compagine di quella che è il consiglio di presidenza. Come ho detto oggi mi aspetto molto dai giovani, in quanto i giovani non soltanto portano la nuova linfa all'interno della nostra compagine, ma hanno sicuramente una condivisione con noi dei valori e degli obiettivi. Quindi un benvenuto all'interno della nostra squadra.